Ritardi, costi cresciuti, benefici incerti. La Corte dei Conti europea avanza a dubbi sullo stato dei lavori della TAV Torino-Lione. Lo fa con una relazione non vincolante inviata alla Commissione europea. Matteo Speculia. Sconfessione o stimolo a fare meglio dipende dalle chiavi di lettura, ma un punto fermo c'è. L'analisi della Corte dei Conti europea sulla TAV Torino-Lione è severissima. Ritardi, problemi di sostenibilità economica, benefici ambientali incerti, valutazioni estese anche ad altri megaprogetti trasfrontalieri. Anelli mancanti, li definisce la Corte. Per la Torino-Lione punti deboli sono diversi. Tempi dilatati, per esempio. Pronta non prima del 2030, i costi. Spesa iniziale prevista di 5,2 miliardi, schizzata dopo anni a quasi 10 miliardi, un incremento dell'85%. Così le stime sui benefici ambientali, un tema forte di quanti sostengono le ragioni dell'opera. Per la Corte ci saranno solo dopo 25 anni dalla fine dei lavori, quindi nel 2055, compatibilmente ai livelli di traffico. Nella sintesi audio diffusa dalla Corte si parla poi dei volumi. Un'opera pensata su una stima di traffico merci di 24 milioni di tonnellate. Oggi sono tre, otto volte in più. Questo non significa che la nuova infrastruttura non possa intercettarle in futuro, si legge nella relazione, ma per la Corte bisogna pensare ai collegamenti mancanti e alle infrastrutture di servizio. Risultato, il valore attuale netto dell'investimento è in perdita tra i meno 6,1 miliardi di euro e i meno 6,9 miliardi. La Corte invita la Commissione ad analisi migliori prima di finanziare i progetti e a potenziare la gestione operativa. La relazione chiaramente ha riacceso il confronto tra favorevoli e contrari all'opera con il movimento Notav che annuncia già nuove mobilitazioni per l'estate.